Buongiorno a tutti, ci tenevamo a ringraziarvi per la vostra presenza qua in questa calda domenica di 7 luglio a Milano, per noi un momento molto importante. È la prima volta che apriamo a tutti i media la nostra nuova sede, che è Inter Headquarter, per quella che oggi per noi è la prima conferenza stampa, incontro con la stampa di presentazione della nuova stagione. Spero che vi sia piaciuta la nuova sede, che abbiate avuto l'occasione per vedere la Trophy Room, per salire sulla terrazza. Da questa terrazza possiamo vedere tutta la Milano distretto più innovativa della nostra città e non siamo qui per caso, nel senso che più che un posto di lavoro per noi questo è un brand statement all'interno del distretto dell'innovazione e del design della città. Vi ringraziamo per essere qua oggi, porto i saluti e i ringraziamenti del nostro Presidente Steven Zhang e con piacere lascio la parola per questa presentazione alla stampa al nostro amministratore delegato per l'Aresport Giuseppe Marotta e al nostro allenatore Antonio Conte. Ancora grazie e benvenuti. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti che ha fatto poco fa Matteo, ringraziamenti per l'invito che avete raccolto. Siamo appunto il primo giorno di questa nuova stagione sportiva, ma prima di ascendare a quelli che sono i temi di attualità ci tengo a sottolineare e rimarcare con orgoglio un risultato direi importante ottenuto dall'Inter, il fatto di essere usciti dal settimo agreement e quindi questo ritengo sia un buon viatico per il futuro. Lo si deve principalmente alla proprietà che ha dato dimostrazione di quanto ami l'Inter attraverso un impegno molto forte e garantendo stabilità e continuità a questa gloriosa società. Un merito anche va scritto al management che ha portato a questo risultato, un management in cui io non c'ero, per cui i meriti dobbiamo assolutamente riconoscere loro e qui sono rappresentati da Antonello Alessandro, un amministratore delegato e da Piero Ausilio. Quindi un ringraziamento anche da parte mia perché oggi faccio parte di questa società e sicuramente le difficoltà sono inferiori rispetto al passato. Si riparte, come ho detto, in apertura. Ritengo e sottolineo come il presidente Steven Zhang, che per lui oggi è la prima volta che inizia la stagione da presidente. Per il presidente, per Alessandro Antonello e per me esistono due grandi diritti. Il primo diritto è quello di scegliere gli uomini che compongono il progetto. Il secondo è quello di scegliere i valori che caratterizzano l'attività e la vita di questa società. Per quanto riguarda i valori, direi che lì abbiamo un esempio, abbiamo vicino la bacheca dei traguardi, che rappresenta il palmarès ricco, sicuramente prestigioso, della storia di questa società. Ogni traguardo è ottenuto perché qualcosa è stato fatto di importante. E quindi i valori vorrei sintetizzarli in tre. Uno, la cultura del lavoro. E quando dico cultura del lavoro significa anche declinare quelli che sono gli aspetti un attimino più analitici. Quindi la disciplina, l'ordine, il rigore, il rispetto e quant'altro. La seconda è sicuramente la cultura della vittoria, quella cultura della vittoria che ha portato a ottenere quei risultati e che noi dobbiamo tutti insieme cercare di riportare nuovamente. E il terzo valore che sicuramente è molto importante è il senso di appartenenza. Il senso di appartenenza ti fa amare questi colori, ti fa amare la maglia. E quindi sicuramente sono aspetti fondamentali. Parlavo degli uomini. Quando parlo di uomini soprattutto intendo sottolineare quello che abbiamo fatto. Al mio fianco c'è Antonio Conte ed è stato un profilo che noi abbiamo accettato velocemente e rapidamente proprio perché in lui crediamo. Io sono nel calcio da tantissimi anni e spessissimo mi è stata fatta la domanda, così come l'ho sentita fare ad altri, di quanto vale percentuale la presenza di un allenatore nella gestione di una società di calcio. Ancora oggi sinceramente non la so. Così come anche ho letto da altre parti il 30, il 40, il 50, il 60%. Io ritengo che la figura dell'allenatore invece sia fondamentale per tutto quello che ogni professionista riesce a dare, certamente supportato dalla società, ma ha sicuramente una valenza molto molto forte. Conosco personalmente Antonio Conte, ma soprattutto la mia conoscenza, che può essere anche limitata se vogliamo, deve tener conto dei risultati che lui ha ottenuto in diverse nazioni e in diverse forme, da calciatore, da allenatore, da selezionatore della nazionale. Quindi credo che anche in lui ci siano quei valori che poco fa ho illustrato e che fanno parte sicuramente di quei valori che noi vogliamo estendere a tutti i nostri giocatori, a tutta la nostra società, perché sono certo che attraverso il rispetto di queste condizioni potremo toglierci delle soddisfazioni, dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi e sicuramente ottenere dei risultati importanti che sono in sintonia con i blasoni e la storia di questa gloriosa società. A questo punto darei inizio alle domande, però passo la parola a Cripa. Grazie mille, buongiorno a tutti e benvenuti. Possiamo dare via la conferenza stampa. Io vi chiamerò come testata e vi prego di presentarvi dicendo nome e cognome per piacere. Chi verrà chiamata avrà la possibilità di fare una domanda al nostro allenatore e al nostro amministratore delegato dell'Area Sport. Grazie mille, cominciamo con Sky. Ciao, buongiorno Antonio, Andrea Paventi, Sky Sport. Le richieste di te erano tante da parte di tanti club, molti erano interessati. Tu alla fine hai scelto l'Inter. Se ci spieghi il motivo di questa scelta e poi a te non piace, racconta la tua storia, partecipare, competere, piace vincere. Per come state costruendo l'Inter, questa è una squadra che può vincere subito. Alla prima domanda rispondo perché è stato semplice scegliere l'Inter perché ci siamo trovati ad avere la stessa visione. Questo è stato molto importante per me quando ho parlato prima con il direttore e poi col presidente a condividere la stessa ambizione, la stessa voglia di costruire qualcosa di importante ben sapendo che dovremmo passare da un percorso che è fatto sicuramente di lavoro, di fatica, di sudore però ho riscontrato la stessa voglia, la stessa ambizione, la stessa visione mia da parte loro. Sicuramente la presenza del direttore Marotta è stato anche un incentivo in più anche perché il direttore mi conosce, mi conosce bene, conosce pregi, conosce difetti come io conosco pregi e difetti del direttore, tanti pregi, pochi difetti ma tutti li abbiamo. Sì, è stato questo il motivo perché mi ha spinto poi ad accettare l'Inter una società con grande tradizione, una delle società più importanti al mondo e quindi per me è stato poi semplice accettare. Quella sulla vittoria, sulla possibilità di competere già ad alti livelli della squadra? Guarda, io sono una persona che comunque non si pone limiti e non voglio che altri si pongano dei limiti o dei freni a inizio stagione anche perché dovessi pormi dei limiti io creerei subito degli alibi in tutto l'ambiente e io non voglio che questo accada. Noi sappiamo benissimo che negli ultimi anni è dimostrato questo che si è creato un gap enorme nei confronti di due squadre soprattutto nei confronti di una che è la Juventus e poi c'è anche il Napoli perché negli ultimi anni il Napoli ha dimostrato con grande lavoro, con serietà di poter cercare di competere e stare ad ottimi livelli. Noi sappiamo di dover lavorare tanto, dover lavorare meglio degli altri per colmare questo gap però ripeto, noi dobbiamo partire con l'ambizione con l'ambizione di dare il meglio di noi stessi, diamo il meglio di noi stessi, diamo tutto quello che abbiamo senza avere recriminazioni e vediamo poi cosa accaderà alla fine. Grazie. Per il direttore Marotta io avevo queste due curiosità intanto come era nata l'opportunità di andare poi ad ingaggiare Antonio Conte se nell'arco dei mesi c'è stato un momento in cui hai pensato di poterlo perdere visto le richieste che c'erano e in virtù di quello che hai dichiarato proprio da noi a Sky su Nainggolan e Icardi se per l'attacco adesso il primo grande obiettivo è davvero Lukaku. Più che il momento ritengo l'idea, ecco l'idea è nata da me che poi ho condiviso con Piero Ausilio in prima battuta perché è giusto così e poi con Alessandro Antonello e infine col Presidente perché ritenevo, ritenevamo che in questo momento fosse necessario una figura come la sua, un profilo adatto a questo momento storico dell'Inter senza nulla togliere al lavoro svolto da coloro i quali sono stati prima di noi perché ha questi skill, questo profilo vincente quindi non abbiamo avuto dubbi, non abbiamo minimamente interpellato nessun altro allenatore, l'abbiamo fatto direi dopo un approccio così ma è un approccio abbastanza formale, terminato il campionato abbiamo poi dato seguito a quelle che sono le ritualità quindi la sottoscrizione di un contratto, il fatto che ci si conosca ha facilitato tutto questo come lui ha poco fa indicato poi tra uomini di calcio direi anche con i miei colleghi, con i miei collaboratori abbiamo fatto in fretta a stilare quello che era un programma innovativo sicuramente molto ambizioso che rispetta come abbiamo sottolineato entrambi quello che poi è la valenza della società per quanto riguarda il mercato, siamo in una fase di mercato diciamo che i lavori sono in corso Piero Osilio che ringrazio per l'opera che sta svolgendo in modo assolutamente grese perché è veramente un giovane e bravo direttore sportivo lui in primis e io al suo fianco stiamo lavorando per cercare di allestire una squadra competitiva però non dobbiamo mai dimenticarci che il menaggime di una società calcistica ha un obbligo, cercare di porsi degli obiettivi ambiziosi ma cercare anche di mixare quelli che è la costruzione di una squadra forte con il rispetto di un equilibrio finanziario, economico, patrimoniale e quindi in questo senso noi stiamo operando cercando di cogliere le opportunità sapendo i giocatori che desidera Antonio Conte anche se però ripeto siamo ancora in una fase di cantiere ecco quindi diciamo non dobbiamo fare le cose in frettissima anche se sarebbe bello potergli dare esposizione più fretta possibile ai giocatori perché la fretta spesso è cattiva consigliera ma soprattutto è un mercato difficile questo qui dove le idee sono chiare anche da parte nostra ma dobbiamo avere la pazienza e questo mi rivolgo in diretta anche all'allenatore perché gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono importanti Mediaset Buongiorno Antonio, Marco Barzaghi Mediaset benvenuto volevo chiederti Marotta ti ha definito il top player dell'Inter senti questa responsabilità e come cercherai di fare la differenza visto che qui sono tanti anni che non si vince io ringrazio il direttore penso che i top player noi li dobbiamo avere in campo penso che l'Inter abbia una buona base di partenza dove poter costruire qualcosa di importante sicuramente io dovrò dare un apporto un apporto importante come penso di aver sempre fatto nelle mie precedenti gestioni so di avere una grande responsabilità me la sento addosso questa grande responsabilità nei confronti delle persone che mi hanno scelto nei confronti del nuovo club nei confronti dei tifosi sono pronto a prendermi questa responsabilità a dividerle sicuramente con i miei con i miei calciatori che scenderanno in campo e niente io penso che questo è il periodo tanto delle chiacchiere noi penso che dobbiamo parlare poco e dobbiamo lavorare tanto quindi mi piace ricordare testa bassa e pedalare perché questo dovrà essere il nostro motto dovremmo essere molto molto bravi e molto feroci e concentrati sul nostro obiettivo quello di avere stabilità di dare stabilità anche perché se vogliamo fare una stagione importante una stagione da protagonista questo ripeto è il nostro obiettivo bisogna avere queste caratteristiche ferocia grande voglia di lavorare grande voglia di mettersi in discussione grande spirito di sacrificio e avere la voglia e l'obbligo di uscire ogni domenica con la famosa maglia sudata questa è una cosa che io pretenderò da tutti i calciatori e sono convinto che i calciatori che ho a mia disposizione possano fare questo al direttore invece volevo chiedere se ci spiega bene perché i Cardi in Angola non rientrano più in questo nuovo progetto e se è possibile che i Cardi alla fine possano andare effettivamente alla Juve o è una possibilità che si può già escludere quando si definisce un progetto bisogna poi identificare anche i profili necessari per arrivare a realizzare questo progetto quindi chiaramente non è giusto e corretto entrare nei particolari abbiamo deciso e quando dico abbiamo deciso la società ma con la condivisione di tutte le componenti societarie e siamo arrivati a questa conclusione questa conclusione è una conclusione sofferta non siamo sproveduti siamo tutta gente di grande esperienza soprattutto in questo settore per cui abbiamo un obbligo l'ho detto poco fa di rispettare da una parte gli uomini e di considerare anche dei giocatori questi giocatori sono dei nostri asset patrimoniali quindi non si può mai immaginare che noi intendiamo depauperare questo patrimonio ma le scelte vanno fatte con grande coraggio credo che questo sentimento sia da sottolineare il coraggio delle proprie azioni noi abbiamo deciso di far così in modo omogeneo tutti insieme sicuri di fare bene della società senza mancare di rispetto a due professionisti il fatto di dichiararlo ufficialmente purtroppo fa parte di questo mondo non mancheremo di rispetto loro perché sicuramente non c'è motivo per non mancare di rispetto si alleneranno con noi l'ho sottolineato come ci sono dei doveri dei diritti e noi li rispetteremo è possibile che alla fine vada effettivamente la Juve Cardi o lo possiamo escludere? in questo momento lo escludo perché non ci sono le minime condizioni devo dire che come sapete benissimo oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro per cui innanzitutto bisogna trovare una società che possa anche soddisfare quelle che sono le esigenze del calciatore e poi la volontà del calciatore è prioritaria rispetto a qualsiasi decisione della società però sino a questo momento della Juventus non si vede neanche l'ombra Rai Sport Ben arrivato Antonio qui a Milano prima hai parlato di questo gap con le prime del campionato io ti chiedo quanto Antonio Conte può incidere in questo gap hai risposto prima alla domanda di top player però si scrive e si dice che Antonio Conte può valere da solo 10-15 punti e poi aggiungo che emozione hai provato proprio qui vicino entrare e vedere questa sala qui dei trofei io parto sempre dal presupposto che con l'io non si può andare da nessuna parte quindi assolutamente non ho la presunzione di pensare di poter portare 10 punti in più alla mia squadra assolutamente noi ragioniamo con noi ed è per questo motivo che noi lavoriamo per essere un gruppo unito coeso tutti insieme possiamo andare e possiamo ottenere quei 10-15-20-25 punti in più rispetto magari ai precedenti campionati l'unica strada sicuramente io dovrò indicare la strada questa è la cosa che mi compete è la mia responsabilità indicare la strada la strada la dovrò indicare io e dovrò essere molto attento affinché tutti i giocatori seguano questa strada anche perché per arrivare al successo per arrivare alla vittoria non è una strada semplice come ho detto prima è una strada fatta di fatica di volontà di passione di sofferenza di sudore però il mio compito è indicare questa strada i giocatori siamo d'accordo col club dovranno seguire questa strada se abbiamo l'ambizione di essere o di pensare da vincenti altrimenti se qualcuno non ha questo tipo di ambizione di perseguire nella sua mente o abbia lo scopo della vittoria è giusto che in maniera molto onesta si faccia da parte e noi ripeto da questo punto di vista noi dovremmo essere molto molto chiari io dovrò essere molto chiaro dovrò indicare la strada poi ci saranno i calciatori confido molto nella nostra rosa nella capacità di questi calciatori e sono convinto che tutti insieme possiamo costruire qualcosa di importante ma non sarà facile non sarà facile perché ripeto non ci sarà da lavorare tanto quando si lavora non sempre si è contenti invece noi dovremmo essere proprio contenti di sudare di lavorare cercare di arrivare a quell'obiettivo che è l'eccellenza per noi solo velocemente la tua sensazione di questo nuovo ambiente di questa sala dei trofei di questa nuova avventura ma questa è un'avventura una bellissima avventura sono molto emozionato anche perché riprendo dopo un anno di inattività in un nuovo club con una nuova una nuova struttura un club di grandi tradizioni un club che la storia e i trofeiti fanno capire dell'importanza del club nel mondo sicuramente i trofei per me per tutti noi devono essere un incentivo un motivo in più per cercare ripeto di di tornare dove dove si era un bel po' di tempo fa ecco una domanda per il direttore Marotta sempre sul sull'aggiornamento del mercato per quello che ci può ci può dire in settimana hanno parlato sia Giulini e poi Petracchi da Roma insomma per Barella che volevo capire se c'è l'intenzione a questo punto di fare l'affondo decisivo su questo giocatore noi abbiamo letto le dichiarazioni di due dirigenti che stimo personalmente rispetto anche a quello che hanno detto anche se non sono perfettamente d'accordo è normale che quando una società detiene i diritti sportivi quindi agisce da venditrice ha diritto di fare il prezzo che vuole ma è altrettanto vero che il compratore ha altrettanto diritto di stabilire poi l'equità e il valore del giocatore quindi questo fa parte della negoziazione ora io non mi esprimo in valutazioni ulteriori si tratta di vivere quello che è ormai una situazione una dinamica del calcio del calcio mercato cioè quella da una parte chi vende dall'altra chi compra bisogna avere pazienza anche in questo caso però esiste una congruità di valore che sta al compratore stabilire grazie Francesco Rocchi di Rai Sport vi chiedo cortesemente di presentarvi come ho chiesto prima Gazzetta dello Sport eccoci Davide Stoppini Gazzetta volevo chiedere lei proprio in un'intervista alla Gazzetta ha ricordato insomma io ho un problema con la vittoria devo avere la percezione di poter battere chiunque nella squadra che andrò a allenare poi ha scelto l'Inter e in passato è riuscito a farcela al primo colpo volevo chiedere se rispetto alle altre squadre mi riferisco al Chelsea alla Juventus questo compito di riuscire a vincere il campionato al primo colpo sarà più difficile le sembra più difficile rispetto alle altre squadre o no? Grazie Sì mi ricordo benissimo dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ho detto che devo avere la percezione di avere anche solo l'1% di possibilità di poter vincere l'1% di possibilità di poter vincere significa che hai il 99% di possibilità di poter perdere però a me piace pensare piace lavorare su quell'1% di possibilità di poter vincere oggi ribadisco un concetto che non penso di essere uno scienziato se 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 esprimo questo concetto il fatto che comunque che ci sia un una squadra che da otto anni a questa parte sta facendo un campionato a parte non penso di dire una cosa nuova e in più ribadisco c'è il Napoli che negli anni si sono assestati e sono squadre collaudate noi dobbiamo essere bravi a cercare di costruire qualcosa a cercare di di non chiedere neanche tanto tempo perché io dico sempre che chi ha tempo non aspetti tempo però c'è c'è un dato di fatto c'è questo c'è questa situazione in in Italia non dimentichiamoci che l'Inter per due anni di seguito si è qualificata in Champions League l'ultima giornata nessuno qui ha la bacchetta magica nessuno si considera un mago io quello che posso portare quello che posso dire è che noi lavoreremo lavoreremo tanto lavoreremo bene ma non solo lavoreremo bene noi dovremmo lavorare meglio degli altri se vogliamo avere la speranza di colmare questo gap quanto prima possibile questo gap esiste però come ho detto prima non deve essere un alibi non deve essere un un qualcosa che ci fa diventare arrendevoli assolutamente nelle mie passate esperienze come detto nella Juventus sì partimmo dopo due settimi posti vincemmo il campionato vince il Milan che sicuramente era molto più avanti rispetto a noi c'era anche l'Inter c'era il Napoli stesso con il Chelsea arrivai dopo un decimo posto e l'anno dopo abbiamo vinto il campionato penso che con la nazionale abbiamo fatto un percorso importante potevamo non lo so però non si poteva andare avanti se se non fossimo usciti con la Germania campione del mondo avrebbe battuto la Spagna diciamo che nulla è impossibile però dobbiamo anche sapere che affinché l'impossibile diventi possibile c'è da lavorare tanto c'è da lavorare tanto sotto tutti i punti di vista c'è da lavorare sul mercato c'è da lavorare in campo c'è da lavorare sulla mentalità noi dovremmo fare questo io quello che posso promettere oggi ai tifosi daremo tutto noi stessi affinché si possa costruire qualcosa di importante sono qua sono Carlo Angioni sempre della Gazzetta direttore abbiamo accennato a Barella abbiamo accennato a Lukaku non abbiamo parlato invece di Zecco la settimana scorsa Seme Petracchi ha detto che non accetta Ricatti qual è la vostra strategia adesso? è quella che ho esposto alla domanda Presidente fattami siamo davanti a uno scenario ancora dove certamente si fa un po' una partita a scacchi dove il venditore cerca di essere più abile più bravo del compratore quindi non nascondo che questo è un obiettivo però tutto poi deve essere anche valutato nell'ottica della congruità dell'operazione e delle difficoltà che ne conseguono il fatto magari che il giocatore abbia manifestato il suo assenso a questo trasferimento non significa più di tanto perché c'è il rispetto verso una società che detiene i diritti sportivi ma c'è anche la consapevolezza che noi ci muoviamo con grande raziocino con grande razionalità nel rispetto di quelli che sono i nostri parametri e nel rispetto di quelli che sono le nostre considerazioni in merito alla valenza economica che questo giocatore rappresenta quindi siamo in quella fase interlocutoria Buongiorno Antonio Guido De Caro di Scorriola Sera volevo chiederti questo quando sei arrivato alla Juve era una Juve embrionale praticamente e vinse come hai ricordato tu veniva l'anno prima da un settimo posto e vinse lo Scudetto ci vedi delle analogie con l'Inter con questa Inter anche se l'Inter appunto è arrivata quarta e poi volevo chiederti una cosa sulla Champions League che obiettivo ti poni per la Champions League di quest'anno poi ne chiedo una al direttore io penso che non sia giusto a prescindere fare dei paragoni con il passato che possano essere gli inizi con la Juventus che gli inizi con il Chelsea perché comunque sono sempre in situazioni molto diverse è inevitabile che da domani inizieremo a lavorare sarà molto importante per me avere il contatto avere la quotidianità con i calciatori cercare di avere di recepire le giuste sensazioni cercare di trasferire quello che io devo trasferire quindi oggi noi portiamo da una buona base da una buona base da una base di calciatori di una squadra che si è qualificata per due volte in Champions da quarta in classifica noi sappiamo che su questa base dobbiamo lavorare per cercare di migliorare questa base eliminando i problemi che ci sono stati in precedenza e cercando di aggiungere quegli elementi che pensiamo quei profili che pensiamo facciano al caso nostro sia da un punto di vista calcistico che da un punto di vista umano penso che questa sia la strada da percorrere oggi ripeto fare delle previsioni diventa molto molto difficile però come ho detto prima non dobbiamo porci dei limiti per quello che riguarda la Champions League noi dovremmo fare il massimo dovremmo cercare di in ogni competizione che ci vedrà protagonista dal campionato dalla Coppa Italia alla Champions League noi dovremmo cercare di dare il massimo partendo con l'obiettivo che niente è impossibile questo deve essere chiaro nella nostra mente poi ripeto sappiamo che ci sono delle difficoltà enormi ma noi dovremmo lavorare con con voglia e con desiderio di di fare qualcosa di straordinario per fare qualcosa di straordinario hai bisogno di buoni giocatori ma hai bisogno soprattutto di uomini straordinari e noi stiamo cercando questo volevo chiedere grazie volevo chiedere invece al direttore Marotta volevo chiedere questo Icardi Nangolan ci ha spiegato com'è la situazione insomma Icardi più di Nangolan forse un po' padrone del suo futuro se non accetta di andare da altre parti è chiaro che insomma se dovesse rimanere all'Inter a fine mercato come si gestisce insomma diventa un problema qual è il tipo di gestione se dovesse succedere una situazione del genere ci ritroveremo a fine mercato e magari ne parleremo in modo più dettagliato oggi dobbiamo essere ottimisti e avere una visione diversa rispetto alla tua Andrea Ramazzotti Corriere dello Sport ciao mister tu hai firmato fino al 2022 con l'Inter quale obiettivo saresti soddisfatto di raggiungere entro quella data cioè tu che obiettivo ti sei dato entro quella data ma l'obiettivo è un obiettivo comune che abbiamo che ho io che ho il club è quello di costruire qualcosa di importante è quello di mettere le basi per per tornare ad essere competitivi come come l'Inter era un bel po' di tempo fa e questo è l'obiettivo io e il club i dirigenti i calciatori come obiettivo abbiamo quello di lavorare tanto e poi alla data di scadenza eventualmente di lasciare un'eredità un'eredità importante a chi eventualmente verrà al direttore volevo chiedere questo invece al secondo anno alla Juve ha chiamato Conte in panchina e ha vinto siamo al suo secondo anno all'Inter ha chiamato Conte nuovamente in panchina che succede a fine anno? Beh innanzitutto non è proprio il secondo anno però va bene diciamo che la coincidenza scaramanticamente può essere quella e quindi spero che anche il risultato finale sia quello raggiunto Repubblica Buongiorno Franco Vanni benvenuto Milano un amico collega mi racconta che nel 2014 Coverciano lei fece una lezione per i giornalisti che seguivano la sua nazionale di tattica e strategia per raccontare il suo calcio volevo chiedere se aveva intenzione in fare la stessa cosa anche con noi che ci occupiamo dell'Inter veramente sono state due le elezioni a Coverciano quindi poi quando mi resi conto che qualcuno mi stava superando qualche giorno a livello di dei calcisti che decisi di stoppare penso che sono due situazioni totalmente diverse anche perché con la nazionale hai poco tempo a disposizione quindi comunque c'era la volontà in quel periodo di cercare di coinvolgere tutti per cercare un pochettino di far capire in che direzione noi volevamo andare cosa volevamo fare e devo dire che rimasi sorpreso favorevolmente perché pensavo di trovare più persone non così preparate ecco quindi proprio per questo motivo poi dovetti sospendere questo tipo di meeting proprio perché ripeto comunque andavamo poi dentro a dei discorsi che me li ritrovavo poi sul giornale e sai benissimo che il cuoco non svela mai la propria ricetta quindi io ho cercato di portare i giornalisti diciamo nella mia cucina a vedere un pochettino sperando che non ricevi solo tanto invece quella FUNA e per questo motivo no all'Inter sarà diverso ma così è diversa la situazione stiamo parlando di club non stiamo parlando di nazionale va bene grazie mille e invece per il direttore Marotta volevo chiederle lei sono quasi sette mesi che è all'Inter e volevo chiederle in questo periodo qual era la cosa che ha fatto che le ha dato più soddisfazione e quali sono invece gli aspetti su cui pensa che secondo la sua idea di società e di squadra ci sia ancora più da lavorare ma io sono arrivato devo dire in punto di piedi io assolutamente mi sono messo al fianco del management che c'era che è comunque un management di grande livello e praticamente mi sono unito a loro nell'identificare quelle che sono le migliorie che si possono apportare credo che il mio compito sia proprio quello di condividere l'alzare dell'asticella ma poi portare dentro tutte quelle qualità a cui ha fatto riferimento anche Antonio Conto che sono soprattutto umane di stimolo di motivazioni perché credo che oggi sia veramente importante al di là del valore oggettivo del valore tecnico di ogni giocatore soprattutto dare una mentalità vincente e nel dare una mentalità vincente non significa solo darla alle componenti tecniche ma anche a tutte quelle componenti che supportano un'attività tecnica per il raggiungimento di un obiettivo vincente ecco questo credo che sia il mio compito principale ma come ho detto in apertura di conferenza con il collega Alessandro noi abbiamo avuto appunto e abbiamo tuttora un compito quello di scegliere gli uomini che definiscono il progetto che definiscono il modello vincente questo è uno dei compiti che per quanto riguarda la mia area sto portando avanti e però devo dire sono molto soddisfatto delle scelte che la società il presidente mi ha dato la possibilità di fare e quindi sono molto fiducioso per il futuro tutto sport buongiorno Antonio Stefano Pasquino benvenuto a Milano volevo chiederti tra i motivi di questa stagione ovviamente ci sarà questa tempesta emozionale di conte storiche con a bianconera che sfida la Juve con l'ambizione di diventare l'anti-Juve volevo chiederti che accoglienza ti aspetta a Torino perché comunque è chiaro che sarà una partita molto particolare per te e per tutta l'Italia calcistica che accoglienza mi aspetto sicuramente sarà una una partita importante una partita importantissima perché andremo a sfidare i detentori del titolo da otto anni quindi di base sarà una partita importantissima saranno due partite importanti a San Siro e allo Juventus Stadium fermo restando che non saranno le uniche due partite perché ce ne saranno altre 36 siccome noi andiamo a vedere nella globalità della situazione se vuoi essere ambizioso non devi essere focalizzato su una o due partite durante l'anno per quello che mi riguarda personalmente sicuramente ci sarà emozione sicuramente ci sarà emozione nell'entrare allo Juventus Stadium conoscete benissimo la mia la mia storia non non vorrete diarvi qui a raccontarvi la mia storia conoscete benissimo sapete conoscete il mio passato e quindi ci sarà sicuramente così ci sarà emozione ci sarà emozione fin quando non ci sarà il fischio di inizio quando ci sarà poi il fischio di inizio so benissimo di essere un avversario so benissimo che la Juventus sarà un avversario per me e per noi per tutto il campionato e quindi dovremmo essere pronti a combattere e cercare di prevalere l'uno sull'altra una delle grandi sfide di questo inizio stagione da parte della società ma da parte dell'allenatore penso che sia anche Perisic nel senso è uno dei giocatori più importanti in rosa e che come tutto fa pensare dovrà cambiare il chip ovvero essere disposto a fare un ruolo probabilmente più di sacrificio anche sulla fase difensiva e volevo chiederle a lei direttore e ad Antonio se avete magari già parlato con il ragazzo di questa di questa novità che penso sia importante e se questa può essere la prima chiave di svolta della nuova Inter questo Perisic che magari come elettore del triplete si adatta a fare un ruolo di sacrificio risolvendovi un problema a sinistra abbastanza importante Sembra giusto siccome è una domanda molto tecnica girarla all'allenatore Penso sì Eto'o era un un attaccante non penso che sia proprio giusto questo tipo di paragone ecco è giusto il tipo di paragone nel senso che Eto'o è entrata in un'idea di pensare col noi di sacrificare se stesso di sacrificare l'io in favore del noi in favore della squadra ecco mi sembra molto più appropriato quello che fece questo grande calciatore da un punto di vista mentale mettersi a disposizione io cerco disponibilità cerco disponibilità da parte dei dei miei calciatori cerco calciatori che pensino con il noi e non pensino con l'io quello che penso io ripeto lo pensa il club anche perché come ho detto all'inizio abbiamo la stessa visione e ci siamo trovati su tante situazioni quindi non vedo non vedo grossi problemi ripeto avremo tempo per conoscerci avremo tempo per fare un percorso il mercato dura fino all'inizio di settembre chiedo disponibilità da parte di tutti e pensare con noi e non con l'io se qualcuno non dovesse essere su questa lunghezza d'onda amici come prima si faranno altre scelte PPTV come pazza Inter quindi ha già pensato di come riportare la squadra alla grande forte regolare non così pazza sì ma innanzitutto comunque sfrutto anche questa domanda che mi hai fatto perché è giusto sottolineare i meriti di Spalletti in questi due anni all'Inter perché Luciano è arrivato all'Inter dopo anni in cui non si entrava in Champions gli è stato chiesto di entrare in Champions quindi ha fatto questo mi lascia una 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 buona base lo ringrazio quindi per il lavoro che ha svolto lo ringrazio perché grazie a lui noi quest'anno grazie a lui ai calciatori al club noi quest'anno comunque abbiamo l'opportunità di giocare in Champions League e non in Europa League come come lei ha detto l'obiettivo è quello di avere più stabilità di cercare di arrivare ad essere più più regolari più stabili l'Inter negli ultimi due anni si è qualificata all'ultima giornata di campionato per la Champions League con grande pathos noi dovremmo cercare di alzare l'asticella cercare di andare al prossimo step ripeto cercare di avvicinarci a chi oggi c'è davanti non guardare chi c'è dietro non dobbiamo vedere chi ci sta davanti e trovare il modo di colmare questa distanza il gioco che vorremmo fare il gioco è quello di cercare di di rendere felici i nostri tifosi di coinvolgere i nostri tifosi col col nostro gioco trasmettendo passione trasmettendo attraverso lo sforzo attraverso la partita qualcosa che che rispecchi l'Inter ecco questo per noi sarà molto importante noi lavoreremo molto da un punto di vista tattico per dare un'identità alla squadra per cercare ecco che l'Inter sia riconosciuta questo è l'Inter che abbia un'identità un proprio marchio di di fabbrica e su questo non lavoreremo perché ripeto vogliamo comunque rendere orgogliosi i nostri tifosi questo è una cosa a cui a cui tengo molto è una cosa a cui è giusto noi lavorare tanto per per permettere alla gente che la domenica comunque fa sacrifici per venire al campo di essere orgogliosa al di là del risultato ecco ma che veda una squadra che dà tutto per questa maglia e per questi colori Federico Sala da Zon una domanda per Antonio Conte le volevo chiedere se quest'anno ha intenzione di approcciare fin da subito con il sistema una difesa 3 visto l'arrivo anche di Godin o se proseguirà con una difesa 4 come Spalletti e poi come ha visto Lautaro Martinez in Coppa America se può avere una chance di essere titolare quest'anno nell'Inter ma sul sul sistema di gioco tantissime volte mi è capitato di partire con un'idea e poi scoprendo le caratteristiche apprezzando le caratteristiche dei giocatori di cambiare ed andare poi su un altro sistema di gioco sicuramente vedendo la rossa dell'Inter quello che risalta oggi maggiormente agli occhi qual è che comunque il reparto difensivo è un reparto molto molto forte non mi riferisco solamente al fatto che sia arrivato Godin che ci sia Skriniar e De Vrai ma stiamo parlando di D'Ambrosio stiamo parlando di Bastoni stiamo parlando di Ranocchia gente che comunque giocherebbe titolare in qualsiasi altra squadra di Serie A partiremo sicuramente su una base avendo giocatori forti in quel settore di una difesa 3 però vedremo che tipo di situazione andremo poi ad affrontare non ho un dogma fisso ecco io sono partito tante volte con un pensiero e poi siamo arrivati a un altro importante che rimangono i principi l'importante che rimane l'idea di quello che vogliamo fare ripeto noi vogliamo fare un calcio propositivo un calcio comunque ad alta intensità un calcio che appassioni i nostri tifosi Lautaro Lautaro è un giocatore forte è un giocatore che l'anno scorso ha fatto un anno di ambientamento importante ha fatto un'ottima Coppa America non vedo l'ora di scoprirlo anche perché ogni allenatore poi io posso parlare di qualsiasi altro calciatore cioè di un calciatore ma poi la soddisfazione è avere la possibilità di vederlo di tastarlo di capirne le qualità professionali le qualità umane e cercare poi di migliorarlo perché non dimentichiamo l'obiettivo dell'allenatore un allenatore bravo è quello che migliora i propri giocatori una velocissima per il direttore se l'idea Conte nasce prima o dopo e se è di pesa eventualmente dal caso Icardi sappiamo la rigidità la capacità di gestire il gruppo da parte del mister se è di pesa anche da questo oppure se lei è arrivato con questa idea e l'ha portata fin da subito e non c'entra nulla con quell'aspetto No assolutamente dico che l'idea è nata nel momento in cui abbiamo valutato quale doveva essere quale poteva essere un futuro diverso migliore che tiene conto di tante considerazioni che non sto qua a delincare perché mi sembra giusto e corretto non fare è stata la condivisione ho detto poco fa di un'idea che poi si è tramutata in un approccio e poi si è tramutata in una trattativa e quindi in una definizione avuta dall'Inter dalla società Inter quindi direi condivisa dal menangime della proprietà dalla presidenza per un determinato motivo quello che impersonificava Antonio Conte il miglior profilo in circolazione perché lo si conosceva perché dalla sua come ho detto prima ha dei risultati importanti e che si incarnava con quello che era la nostra esigenza grazie Binsport Ciao mister ciao direttore Usain Binsports la domanda per il mister è se questa è la sua sfida più difficile e il no ai card in Angolan è stata anche una scelta tecnica? sicuramente è una è una grande avventura questa un'avventura difficile ma al tempo stesso molto molto intrigante io penso che ognuno di voi di noi viva la propria vita per questo tipo di sfide dove comunque c'è un tasso di difficoltà importante all'inizio io vivo di questo mi nutro di questo per me è una sfida difficile ma ripeto al tempo stesso molto molto affascinante sotto tutti i punti di vista c'è la possibilità di costruire qualcosa di importante insieme ai dirigenti e al presidente ed è una cosa che a me piace a me piace fare e quindi non la considero una sfida più più difficile sicuramente la considero una tra le più difficili per quello che riguarda il discorso di Icardi in Angolan penso che il club abbia avuto il tempo necessario per valutare bene la situazione per prendere le decisioni e poi per agire io quello che ho fatto e mi sono totalmente allineato al club alla volontà del club io il club dobbiamo essere un'unica cosa e ripeto totalmente allineato alla linea del club una domanda al direttore si è parlato tanto nelle ultime settimane mesi anche di un scambio Icardi di Bala vi piace questa idea se ci sarà è giusto parlare di cose che si possono concretizzare io credo che in questo momento sia utopistico immaginare una situazione del genere anche se ho avuto modo di conoscere di Bala non solo per le qualità tecniche anzi come l'abbiamo comprato dal Palermo quindi so quanto vale ed è un ottimo giocatore però da qua a dire che si possa ipotizzare uno scambio del genere onestamente mi pare ancora un po' utopistico come dicevo però tutto è aperto e quindi stiamo alla finestra a vedere cosa succede FNTV Buongiorno Prospero Bozzers for News Television Can I make a question in English Mr. Conte Do you mind? Sarebbe meglio farla per esigenze televisive in italiano per favore Va bene Grazie Le squadre inglesi hanno dominato le competizioni europee C'è qualcosa che lei pensa che manchi in Italia nel calcio italiano che lei pensa possa essere importato dalla Premier League Sicuramente io penso che il campione italiano si stia muovendo dopo un periodo di impasse si stia muovendo nella giusta direzione nel fatto che si sta capendo l'importanza di investire nelle infrastrutture nell'avere degli stadi di proprietà si sta lavorando si sta iniziando a lavorare tanto anche sul discorso del marketing cosa che loro fanno tantissimo in Inghilterra sono stati bravi a portare il campionato inglese ad essere il campionato più ambito anche a livello di diritti tv e questo chiaramente ha portato tanti soldi in Inghilterra penso che in Inghilterra sono stati bravi anche a capire e ad unire la forza economica anche alle competenze tecniche perché l'avvento di tanti allenatori stranieri ha portato loro a migliorarsi anche da un punto di vista proprio tecnico oggi fanno paura c'è poco da dire le squadre inglesi fanno paura perché hanno abbinato competenza tecnica a quella economica però ecco penso che noi in Italia ci stiamo muovendo ci stiamo muovendo nella giusta direzione con calma ma ci stiamo muovendo intendevo anche in senso tattico si parla molto dell'intensità in questo senso sì ma però non è più solo intensità prima era tanta intensità e non c'era tanta disciplina tattica io penso che oggi invece l'avvento di tantissimi allenatori stranieri tra i più importanti al mondo alla guida di squadre inglesi hanno portato il miglioramento sotto il punto di vista tecnico-tattico mantenendo l'intensità ecco noi dovremmo essere magari bravi ad alzare l'intensità mantenendo l'idea tecnico-tattica che c'è inter-tv e chiudiamo che il mister deve andare ad appiano dal quale poi partirà per Lugano con la squadra buon pomeriggio mister Alberto Santi inter-tv ha sempre parlato di testa cuore e gambe come sua filosofia di calcio dopo l'esperienza con la nazionale con il Chelsea c'è un quarto elemento che aggiungerà a questa nuova esperienza che sta partendo ma possiamo aggiungere sì la passione la passione per questo sport perché secondo me un po' la stiamo perdendo ecco la stiamo perdendo si guardano più altri interessi ecco invece secondo me noi dovremmo avere più passione nei confronti dello sport che facciamo e quindi dimostrare questa passione quotidianamente sì ha finito la conclusione di questa importante credo conferenza dare il benvenuto ufficiale a un grande dirigente che rappresenta un gradito ritorno tra noi e le l'oreali che qui in prima fila sono certo che il suo ritorno porterà aggiovamento a tutti noi e quindi di questo siamo riconoscenti a lui siamo molto orgogliosi della scelta che insieme abbiamo fatto grazie buongiorno a tutti e arrivederci grazie è terminata la conferenza stampa ufficiale di inizio stagione abbiamo sentito le parole della nuova